Alexander Arnold è quasi morto. L'inglese era a bordo della sua Range Rover. Quando all'improvviso vide di fronte a lui un palo della luce che stava cadendo a causa del forte vento, non poteva far nulla se non schiantarsi contro una BMW che gli stava passando a fianco, come riportano i media inglesi. Trent è vivo per miracolo, ora è sotto shock. Speriamo si rimetta al più presto.